La collezione a guida statunitense ha condotto nuovi raid in Siria contro le postazioni dell'autoproclamato Stato Islamico. Il Pentagono ha precisato che le ultime operazioni sono state condotte principalmente da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Gli obiettivi erano 12 siti petroliferi che, stando a fonti statunitensi, frutterebbero 2 milioni di dollari al giorno al gruppo di estremisti islamici. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 40 milioni di dollari aggiuntivi per finanziare l'opposizione siriana moderata. Il premier britannico David Cameron chiederà venerdì l'autorizzazione al Parlamento per partecipare ai raid contro gli jihadisti in Iraq, escluso invece un coinvolgimento in Siria, così come per la Francia.